L'anno scorso vice capo cannoniere della Citolde Piemontese Due nel giro di pochi istanti Baldi per Tandia Che può avere vita facile lì sotto Ioso deciso di lui Se lo perde Arriva però poi la stoppata con il recupero di Tandia Che avvia anche il contropiede L'immagine per il Bulli verrà Quando si mette negli ultimi 40 secondi Della primo quarto di questa gara d'esordio Del girone A della Serie B interregionale Sono entrato dalla pantina Ancora Sono stati doti di bullhandling Tandia che salta anche Baldi Il lob nel tentativo di servire la lupa Per Tandia che viene stoppato Sì che ha distratto Sono un po' di risultati a livello di scato Ha visto la sale più 24 Ora il passaggio volante 5 rimbalzi 6 punti Gli Osvic 4 punti 3 assist 3 recuperi Per Farias Mentre ora arriva il tapin Tuassi Tapparo Azione prolungata Però poi va a scontrarsi contro il raccorto E le braccia di Tandia Che poi serve Tandia ha rischiato l'impazione di 5 secondi Portona Erika Prova a mettersi la squadra sulle spalle A 2 Erika E Tandia Ora deve contenere Blair